Ben trovati su PS Prevenzione e Sicurezza. Continuiamo a parlare di incidenti domestici legati ai lavori di lizi svolti in casa. Un incidente domestico può coglierci in qualsiasi momento, a qualcuno capita appena mette il piede fuori dal letto, a molti succede tagliandosi o scottandosi in cucina. Per non parlare dei incidenti legati al fai-da-te nei lavori che si svolgono nella propria abitazione, dove può verificarsi di tutto. È da qui che parte la puntata di oggi, parlando di lavori in economia e lavori fai-da-te. È possibile, interroghiamoci, quindi eseguire lavori in economia? Beh, certo, sì, si tratta di lavori di piccola entità, eseguibili direttamente dal proprietario o con l'ausilio di lavoratori autonomi. Possibile anche le detrazioni fiscali, lo chiarisce in una guida la gezia delle entrate. Seppure sia possibile quindi eseguire lavori fai-da-te, quindi in economia, è bene però ricordare la necessità che le opere siano realizzate in conformità alle norme vigenti in materia di urbanistica, in materia di edilizia, di igienico-sanitarie, impiantistica e di sicurezza. Ovviamente bisogna ribadire che il rischio di lavori non in regola fa sì che ci sia la perdita delle detrazioni fiscali e il pagamento di spiacevoli sanzioni. Attenzione, quindi bisogna distinguere lavori di edilizia libera, eseguibili con fai-da-te e senza titolo abilitativo, fermo restando del rispetto delle norme vigenti, come abbiamo appena detto, e lavori che richiedono il titolo abilitativo, invece, ma essendo di piccola entità, eseguibili direttamente dal proprietario o in economia. Il mio consiglio è sempre quello di farvi seguire da un tecnico abilitato, architetto, ingegnere o geometra, una figura professionale che possa tutelare i vostri lavori e la vostra persona in qualità di committente. Ma ora passiamo un attimo a parlare di glossario di edilizia libera. Il glossario di edilizia libera individua 58 punti principali di opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, aventi incidenza in particolare sulla disciplina dell'attività edilizia. In particolare parliamo di norme antisismiche, quindi facciamo attenzione, di sicurezza, di anti-ingendio, di igienico-sanitarie e di quelle legate all'efficientamento energetico, al rischio idrogeologico e alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Vediamo qualche piccolo esempio di edilizia libera, quindi contenuto nel glossario che abbiamo appena citato. Io ho preso come esempio una manutenzione ordinaria, dobbiamo intervenire sul parapetto ad esempio o una rinchiera e vediamo quali sono gli interventi che il glossario ci dice che possiamo attivare, quindi riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma. Ovviamente facciamo attenzione alla sottile possibilità di fraintendere la parola sostituzione perché va sostituito così com'era senza variare l'aspetto estetico, quindi senza modificare la facciata del fabbricato. Potrebbe trarci in errore questo aspetto. Un altro dei punti dei 58 presenti nel glossario è l'eliminazione delle barrile architettoniche. In esempio ho preso quella della sostituzione e installazione degli ascensori o dei montacarichi facendo attenzione alla dicitura quando parla di non incidenza sulla struttura portante. Quindi possiamo rinnovare, lo possiamo mettere a norma, installare, riparare o addirittura sostituire a patto che non vengano inficiate le strutture portanti del fabbricato. Quindi poniamo molta attenzione alle singole parole presenti nel glossario. Bene, io con questo chiudo, vi lascio dandovi appuntamento a giovedì prossimo sempre sulla Nuova TV. Arrivederci.